Buongiorno cari amici che ci seguite in questo spazio che noi dell'Amico del Popolo dedichiamo alle interviste con gli ospiti più disparati, con gli interessi più disparati. Oggi abbiamo un amico cadorino, Guglielmo De Bon, che è un professionista e laureato in giurisprudenza, il suo percorso di studi è stato questo, ma io direi soprattutto perché io lo conosco in questa veste, è un appassionato di storia, di storia della prima guerra mondiale, ha fatto delle realizzazioni importanti, prima di tutto perché ha scoperto delle cose importanti e ha cercato di tradurle in alcune pubblicazioni, un piano d'opera che prevede ben tre libri e oggi siamo all'uscita del secondo di questi libri e per questo abbiamo invitato Guglielmo qui con noi per raccontarci un po' delle sue ricerche e io vi mostro la copertina del libro nuovo che è appunto uscito a luglio e come vedete in testa il libro porta i loghi importanti che hanno patrocinato questa pubblicazione, no Guglielmo? che sono l'associazione dispersi e reduci, la magnifica comunità del Cadore, la società storica guerra bianca, l'associazione nazionale di Alpini e questi sono praticamente i miei patrocinanti sì, l'associazione nazionale Alpini che tra l'altro per firma del presidente Cason del Cadore ha firmato una pagina di introduzione nel libro perché di fatto insomma questo libro esce per volontà degli Alpini del Cadore in un anno importante perché ne accennavi un attimo fa l'associazione quest'anno celebra un anniversario il suo centenario il centenario dell'ANA dell'associazione degli Alpini quindi ancora più significativo insomma che esca questo libro che si intitola Comelico 1915-17 torniamo a vedere la copertina il lutto e la memoria e l'hai messo in piccolo però questo è l'elemento forse fondamentale che ti guida se non ho capito male alla ricerca dei caduti noi abbiamo avuto sulle nostre montagne durante la prima guerra mondiale quanti morti? quanti si stima? oddio il solo col di lana pare che ne abbia fatti 8.000 e quello è l'altare sacrificale maggiore su fronte a Dolomitico però è anche vero che su queste montagne del Comelico a cavallo del passo Monte Croce Comelico in una sola giornata il 6 settembre 1915 si fu il più grande massacro del fronte a Dolomitico nemmeno il col di lana nemmeno anche le Alpi Giulie quindi laterali nemmeno Montepiana ebbero in una sola giornata 400 morti italiani accertati quindi a cavallo del passo Monte Croce si è svolta in quel giorno del fine estate 1915 una carneficina di cui nessuno ha parlato da Berti in poi e Berti non poteva parlare nel 1936 scrivendo il suo libro perché c'erano troppi protagonisti ancora vivi erano generali e questi generali avevano ordinato questo attacco che sembrava risolutore per piombare in Val Pusteria ma si risolse con un'ecatombe e da allora non ci provarono più fino a che Caporetto non sbaracò tutto e tutto e tutti andarono a finire sul piave sai che mi ha colpito di recente mi è ricapitata in mano una frase di Hemingway che si diceva stupito lui aveva conosciuto per aver anche frequentato le prime linee qui proprio dalle nostre parti e lui si diceva stupito di quanti uomini sprecano gli italiani questo ti ho pensato quando l'ho letta perché quando tu racconti beh mostriamo anche la copertina mentre parliamo del libro precedente che tu hai già pubblicato questo è il primo del piano dell'opera Comelico 1915 gli altari della patria ecco tu qui descrivi senza tanti giri di parole le mosse anche sbagliate dei generali insomma che hanno mandato a morire tantissimi soldati italiani nella zona del monte Cavallino in Comelico mandandoli allo sbaraglio su per una pala erbosa senza nessun tipo di protezione dimmi se riassumo in modo corretto con in cima il fuoco dei nemici che tiravano al bersaglio praticamente preavvertito da cannoneggiamento italiano che anticipava l'attacco e quindi io quando parlo di questi generali italiani non voglio essere perché ognuno è figlio del suo tempo noi parliamo cent'anni dopo la situazione di cent'anni fa però di fronte a massacri di questo tipo anche se uno non ha fatto il generale nella sua vita come non l'ho fatto io cosa posso pensare? posso pensare che questi comandanti venivano dall'Ottocento non conoscevano il reticolato non conoscevano la mitagliettrice avevano però per le mani un numero immenso di uomini e allora quando io penso a quello che è successo lassù faccio il paragone con un dilapidatore un figlio al prodigo il quale improvvisamente sia beneficiario di un'immensa eredità e questa immensa eredità se la gode spendendo a destra e manca dissipando tutto perché lui è un dilapidatore alla fine non rimane niente e loro questi generali avevano un'immensa eredità di uomini di uomini hanno mandato a morire dissipare un patrimonio incredibile perché loro comunque non rischiavano nulla loro venivano nel 1800 questo è tremendo è una cosa tremenda questa che dici ma credo che i fatti ormai a distanza dimostrano che questo accade questo accade non diciamo che erano dei criminali non diciamo questo però avevano un immenso patrimonio di vita umane e lo usarono come meglio credevano e come meglio o peggio lo potevano potremmo dire come se fossero pallottole come se fossero munizioni erano uomini purtroppo io questo ho capito io devo confessare una cosa prima ci siamo detti ce lo diciamo non ce lo diciamo io Guglielmo l'ho conosciuto perché grazie alle sue ricerche ha svelato mi ha svelato dei particolari della mia famiglia Cadorina che io non conoscevo e quindi ho toccato con mano devo dirlo la bravura di quest'uomo come ricercatore e non ho problemi a dirlo perché addirittura hai contribuito a rendere note delle cose che i miei familiari non sapevano perché mio nonno era stato tra i combattenti del cavallino me l'hai detto tu Luigi Olivotto Luigi Olivotto e i suoi figli non ne sapevano nulla mia mamma non sapeva di questa cosa perché mio nonno deve aver visto di quelle cose lassù come tu mi hai aiutato a capire che poi alla sua famiglia già segnata da altre sofferenze non ha voluto non ha voluto rilevar rivelare in realtà la sua figura tu l'hai tirata in ballo perché si lega al protagonista centrale di quella copertina al protagonista centrale di questa copertina Lattino Zanetti raccontaci un po' aspetta che mostro intanto la copertina ecco vedete in fondo ci sono in basso ci sono degli ovali dei caduti uno il più grande quello centrale appunto parla di un di un graduato di questi comandanti di un gruppo di soldati che venne mandato appunto sul monte cavallino ma raccontaci tu un po' che cosa accadde a questo uomo venne mandato sul monte cavallino comandava una squadra di cui faceva parte anche tuo nonno lui e Gio Livotto e questa squadra che faceva parte di un piano d'attacco più ampio al monte cavallino si è trovata ad agire in una giornata di tregenda caratterizzata da fortissimo vento nebbia un temporale pazzesco grandine per cui questi uomini sono trovati non solo questa squadra ma anche tante altre squadre attaccare su un pendio reso scivolosissimo dalla grandine in cui immagino che molti abbiano usato il fucile come piccozza e sono trovati comunque a salire questo pendio verso la cresta dove stavano gli ostiaci favoriti dalla nebbia ma la nebbia come purtroppo si sa quando uno va in cresta è un alleato in fido nella cresta c'è un fortissimo vento quando il tempo è maltempo e quindi è normale che in cima la nebbia non ci sia perché il vento spazza e offre comunque una visibilità che prima non c'era ecco loro si sono trovati in ermi lassù a due passi dal nemico un nemico comunque che era già in stato di alerta e che ha potuto avere gioco facile sparando a queste figure le quali erano già in difficoltà dal punto di vista dell'equilibrio loro questa squadra comunque dice Antonio Berti nel suo libro guerra in cadore riuscì comunque arrivare in cima impegnare un conflitto a fuoco con gli ostiaci quindi fu l'unica squadra che quel 9 luglio 1915 riuscì a prendere un tratto della cresta poi però furono presi in mezzo da fuoco incrociato di fucili e anche mitallettrici e furono praticamente spazzati via tuo nonno tuo nonno fu uno di quelli che riuscì a portare a casa la pelle e poi fu uno di quelli che dovette raccontare principalmente al capitano Baratta i caduti e consegnando anche la piastina di riconoscimento che molto probabilmente proprio lui che era amico di Alessandro Zanetti del capo squadra riuscì a recuperare in quei giorni che ancora due dovessero restare lassù prima di ritirarsi e facendo questo gesto cioè prelevando dal taschino dell'alpino Zanetti il portafoglio trapassato da una pallottola che l'aveva ucciso con un colpo seco al cuore più la piastina di riconoscimento consegnando prima la piastina al capitano che depennò il nome del caporal maggiore Zanetti del Rolino e compagnia e poi consegnando il portafoglio alla famiglia che ancora oggi ricorda perché mia moglie tra l'altro è lontana parente di quell'alpino così facendo rese lui un milito ignoto quindi sì perché questo è appunto dicevo prima il cuore forse della tua ricerca i parenti hanno il desiderio di poter piangere i loro cari su una tomba davanti a una lapide dove sai che ci sono le spoglie in realtà tu lo evidenzi in modo molto marcato dobbiamo ricordarci che ci sono migliaia di militi ignoti quindi migliaia di resti di migliaia di persone di migliaia di soldati di cui noi non conosciamo il nome non sappiamo nulla e sono finiti spesso nelle sepolture comuni dove dobbiamo così davanti a un cumulo di ossa immaginare che lì ci siano anche quelle dei nostri parenti nel caso di questo Zanetti di cui si parlava di Lozzo la situazione è un po' diversa perché appunto lì c'è un testimone in questo caso mio nonno che lo ha visto morire ha portato i parenti i suoi effetti personali i parenti sanno che è morto hanno avuto di nuovo a casa quel soldo quella moneta bucata il suo portafoglio però è vero che nel momento in cui sono andati magari a recuperare i corpi forse se lui avesse avuto addosso gli effetti personali sarebbe stato riconoscibile e invece è rimasto uno delle migliaia centinaia di migliaia di morti ignoti allora tu in questo libro nel nuovo libro quindi non questo che è il primo libro uscito bensì questo di cui mostriamo la copertina in questo momento il passo della sentinella quello è il passo della sentinella e dopo ci diciamo due parole su questo passo anche se il tempo vola via e dobbiamo anche essere veloci però voglio far vedere ci hai portato delle immagini che poi sono del libro che sono immagini bellissime i cadorini i comeliani in particolare non hanno difficoltà a riconoscere in questa fotografia santo Stefano di Cadore e guardando la fotografia nella parte a sinistra qui dove cerco di mostrarvi con il mouse con la freccetta del mouse vedete quest'area che cos'è è il cimitero militare da poco realizzato e quindi verosimilmente è una fotografia degli anni 20 e il cimitero militare che oggi esiste ancora è in adiacenza al cimitero civile che fu trasportato lì praticamente pochi anni dopo perché che cosa accadde tu lo spieghi bene nel libro i morti erano tantissimi le sepolture sui luoghi di combattimento erano tantissime quello fu il primo luogo di riposo per questi per questi caduti che trovavano sepoltura anche in gruppo insomma sul posto la prima cosa che si fece fu poi costruire dei cimiteri realizzare dei cimiteri di fondo valle di fondo valle questo di santo stefano è appunto un cimitero di fondo valle però poi mussolini decise di creare i grandi sacrari sto riassumendo correttamente decise di creare i grandi sacrari e per la nostra provincia il più grande il più importante è Pocol per la parte alta del cadore comunque il più importante è Pocol c'è anche Salesei ma diciamo per la parte alta del cadore e dell'ampezzano il più importante è Pocol quindi Pocol di Cortina però ci spieghi sopravvive a questa demolizione dei cimiteri che comportava comunque la riesumazione dei resti un ulteriore spostamento e lì vanno perse cose si fanno confusioni eccetera l'unico che rimane di questa seconda fase è il cimitero di Santo Stefano di Cadore è vero? è vero perché la ragione è questa che in quel cimitero di Santo Stefano di Cadore che sarebbe stato destinato e non aveva quella forma lì non aveva la forma monumentale che oggi era un cimitero militare di Fondovalle come ce n'erano anche a San Marco d'Euronzo o ce n'erano anche a Fiammes di Cortina d'Ampezzo e quindi questi cimiteri che comunque nelle intenzioni del governo diciamo di Savoia quindi siamo 1920-21 il fascismo era ancora di là da venire dovevano servire comunque come dimora definitiva di quegli soldati poi quando il fascismo si affermò e comunque non soltanto il fascismo ma anche le altre nazioni belligeranti nella prima guerra mondiale realizzarono i grandi sacrari i grandi sacrari erano dei luoghi sacri di una sacralità più che religiosa civile dove questi soldati venivano eternati per sempre però massificati ora nel sacrario se uno va di Puglia o va anche a Pocol oppure va anche sul Monte Grappa troverà al massimo il nome e cognome il grado e se del caso l'unoreficenza che è preso in guerra invece nei cimiteri militari come erano in partenza venivano traslati sulle targhette sulle croci in legno i dati anche i matricolari il luogo la data praticamente i dati tratti dalla piastina di riconoscimento che loro avevano e questi dati c'erano in tutti questi cimiteri chiaramente di esumazione in esumazione dalle alte cime dove venivano sepolti dalle pietari con militoni poi giù giù man mano più sepolture più di sepoltura avvengono più facilmente questi dati vanno perduti e molti militi molti soldati che erano ignotti diventano strada facendo militi ignotti o confusi perché uno diventa l'altro l'altro diventa l'uno il grande segreto di questo cimitero militare che in italia è secondo soltanto aquileia è che si è conservato tale quale com'era ilo tempore quindi i dati sulle lapidi oggi sono esattamente gli stessi che stavano sulle targhette delle croci in legno una situazione di conservazione rara che permette talmente rara che dopo re di puglia scusate dopo aquileia dove è partita la cerimonia del militi ignotto verso roma il 1921 il 4 novembre questo è il secondo perché aquileia addirittura è realizzato in corso d'opera durante la guerra durante la guerra e tu guglielmo in questa tua ricerca della della sepoltura dei resti di questi poveri militari hai consultato molti archivi e dagli archivi sono saltate fuori lettere è saltato fuori il desiderio dei parenti di sapere qualcosa di più quante volte ti sarai imbattuto appunto lo si legge nel tuo libro insomma nella richiesta anche del parente lontano che magari in tarda età arriva in cadore speranzoso di trovare i resti dalla Sicilia un ottantenne che viene su per cercare i resti di suo fratello ecco e magari poi è forviato perché ci può essere una lapide sbagliata ci può essere e nei comuni si conserva ancora memoria negli archivi comunali o parrocchiali di queste richieste che la gente anche a distanza di tempo molto grande rivolge alla popolazione locale alle autorità locali per cercare di capire se e dove esistano le spoglie dei morti per vedere una pace interiore che vanno cercando magari come nel caso che hai citato tu da 60 anni pazzesco un fratello che cerca un fratello erano bambini erano ragazzi poi erano militari uno è morto uno è tornato a 80 anni uno parte dalla Sicilia e va fino a Santo Stefano di Cadore per cercare in vano la tomba di suo fratello adesso mentre parliamo ecco quello cimitero nella sua realizzazione primitiva cioè primitiva già monumentalizzata senza che avesse ancora alle spalle il cimitero civile che c'è oggi però già qui si capisce che è monumentale perché è stato reso monumentale ecco questo è il segreto di quello cimitero quello cimitero ha resistito all'effetto calamita dei grandi sacrari nella fattispecie Pocol perché era già monumentale di suo nel 1923 e perché? perché un padre ecco queste sono le cerimonie che ancora oggi si tengono nel cimitero sì ho messo questa foto che ci hai portato perché così vediamo anche nel dettaglio come sono fatte le tombe come sono fatte le tombe sono fatte in maniera monumentale e vedete che al centro nell'immagine spostata verso destra c'è un grande sarcofago sommontato da un'aquila questo qui ecco quello è il patto d'onore che il papà di un caduto di un caduto sul monte a rotte con un ufficiale piemontese che si chiamava Adriano Lobetti Bodoni che morì in questi forse nati assalti dell'estate 1915 senza poi essere ritrovato questo padre intraprese una ricerca personale delle spoglie del figlio già nell'estate 1919 cent'anni come adesso infruttuosamente commissionando lui stesso a lavoratori soldati in loco opere di scavo era comunque una persona facoltosa era industriale piemontese poteva farlo però quello che lui ha potuto fare avrebbe voluto farlo in tanti genitori ma non avevano i mezzi per fare questo lui poteva farlo ripete la ricerca nel 1920 finché nel 1921 riuscì così si disse a trovare le spoglie del figlio allora fece un patto d'onore con il comune di Santo Stefano e con Onor Caduti il patto d'onore fu questo se voi mi lasciate costruire un monumento eccolo lì centrale sopra la testa di quei due visitatori in memoria di mio figlio dove la memoria di mio figlio sia ben circostanziata in quelle lapidi che si vedono lì io in cambio monumentalizzerò tutto il cimitero e quindi questo patto d'onore che fu accettato dall'autorità ha consentito la monumentalizzazione di tutto il cimitero e la traslazione su targhetti in bronzo ora affisse su lapidi in granito delle targhette che prima erano più semplici affisse sulle croci in legno questa foto viene sempre da lì vero questa? sì la foto viene sempre dal cimitero ecco questa è un'altra storia recente del Pino Gnoto del Popera quando nel 1983 quando più nessuno cercava questo soldato perché ormai le cronache lo davano disperso in guerra nessuno sa chi sia però le ricerche che sono fatte in questi anni da me da un gruppo di amici stanno portando forse alla probabile identità di lui quindi non è più così ignoto come era ai tempi di Pertini alcuni escursionisti lo trovarono con una conservazione talmente perfetto che sembrava uscito da un frigorifero era uscito dal ghiacciaio di Vallon Popera erano le immagini che mi avevi portato qui ecco questa è l'immagine aspetta un attimo che la mostriamo eccola qui questa è l'immagine già deteriorata dopo due ore perché dicono chi arrivò lì sulle prime che ancora si vedevano i fili della barba sul viso mamma mia il corpo era già smembrato però questo corpo andò in dissoluzione rapidamente e dopo due ore questa è una fotografia di due ore dopo però fino a il giorno prima lui era praticamente quasi intatto pur smembrato probabilmente dalla valanga che lo travolse nel 1916 ascolta e questo qui che non riconosciamo se non ce lo dici chi è? questo qui era un pericolore sovversivo catalogato come tale nel 1916 quando fu arrollato era della classe nel 1996 e questo pericoloso sovversivo era fortemente contrario alla guerra e qui lo vedete nella sua divisa militare sguardo fiero che noi l'abbiamo poi negli occhi munito di occhiali occhiali neri e sempre sembianze fiere in tarda età ma questo ufficiale possiamo anche dire molto tifoso dell'Italia di calcio molto tifoso dell'Italia specialmente nel 1982 però questo che era fortemente contrario alla guerra a un certo punto si trovò costretto a fare la guerra lui era socialista socialista di quelli veri socialista di quelli veri che detestavano la prima guerra mondiale lui però dovete per forza essere arrollato non voleva assolutamente fare l'ufficiale voleva condividere il suo destino di soldato con la truppa ma siccome ormai nel 1917 la truppa stava perdendo comando gli ufficiali venivano spesi altrettanto quanto i soldati costrinsero Cadorna costrinse tutti coloro che avevano un diploma a diventare ufficiali lui diventò ufficiale dei mitraglieri e comunque si chiamava e poi si chiamerà Sandro Pertini presidente della Repubblica Italiana di cui tu ci hai portato la fotografia di Sandro Pertini perché c'entra anche lui col cimitero certo Sandro Pertini fu quel presidente della Repubblica che nel 1983 era in carica quando in vacanza in Val Gardena fu avvertito che era stato recuperato questo corpo di un suo antico comilitone che lui mai aveva chiaramente conosciuto perché le sue gesta militari svolgevano sul fiume Izonzo sulla Bensizza quella di Pertini qui invece siamo in Comelico e lui accettò comunque alla veneranda età di anni 87 da presidente della Repubblica di venire a presiedere diciamo come massima carica dello Stato le esequie solenni dell'alpino ignoto che era uscito dal ghiacciato del Popera ecco è stato un gesto di pietà insomma che tu giustamente è un gesto anche di grande solennità sottolinea il suo valore ma lui non era soltanto presidente della Repubblica era stato soldato ai tempi in cui quello era tornato allora guarda qui mentre parliamo mostro un'altra delle fotografie che mi hai portato ormai ci avviamo a conclusione sarebbe da parlare ora perché poi perché poi dobbiamo dire che Guglielmo ha anche questa capacità e il libro è chiara insomma di mettere insieme i singoli spunti da bravo storico insomma che trova negli archivi e trasformare in una storia in una storia perché venga letta perché venga letta ma è giusto perché è tutto che va ricondotto a una storia ecco questa bellissima fotografia questa bellissima cresta ci mostra dei prati verdi siamo in Comelico questo monte roccioso sulla destra è il monte Cavallino appunto che nella memoria nostra non può che rimanere associato a questi fatti di guerra incredibili se vedete sto muovendo il mouse nella zona qui della forcella sto mostrando giusto Guglielmo Palle di Giuseppe Palle di Giuseppe questa Palle di Giuseppe è proprio quella quella forcella dove si diceva prima del disastro insomma di quell'attacco e di mio nonno e di Zanetti questo è il crinale che questi poveri soldati per un attimo raggiunsero conquistarono mostriamo la foto di questo Zanetti e lui ma volevo far vedere anche eccola qui al cimitero di Santo Stefano volevo far vedere quest'altro oggetto di cui mi hai parlato prima e di cui ci hai portato la fotografia perché insomma questo dove si trova questo sasso questo si trova al passo Sesis tra il Peralba e il Monte Chiedenis la processione che va da Cima Sapa da Lugau che io ho fatto per la decima volta anche pochi giorni fa si passa a fianco nessuno sa nessuno guarda tutti sono tesi al raggiungimento del passo i pellegrini io però che insomma quando passo di là ho sempre due emozioni non una sola non solo quella spirituale ma anche quella di ricercatore storico ho visto ancora tanti anni fa quella croce e quel nome inciso lì e sotto su a vederlo poi gli anni sono passati il nome comunque me l'ero dimenticato ma poi quando ho cominciato a scrivere questi libri questa storia è tornata fuori e nelle mie ricerche sono dovuto trovare anche l'atto di morte di quel soldato e incredibilmente anche la fotografia che mostriamo adesso perché me l'hai portata è questa il bersagliere Dante Ghezzi che fu uno dei primi a morire sul fronte delle dolomiti del cadore qui di Sapada e qui c'è una frase significativa che hai scritto tu sono pochi versi di una poesia insomma sono morto lontano da casa ma è qui che sono tornato per restare perché non c'è posto più sicuro al mondo della memoria e del cuore di chi ti ama Guglielmo qui noi abbiamo credo più o meno esaurito il tempo e la pazienza dei nostri dei nostri ascoltatori che però sono sicuro che avranno apprezzato e vogliono anche sapere molte cose di più per cui la prima cosa che ti chiedo è questa chi volesse acquistare leggere il tuo libro dove lo può trovare nelle librerie di Belluno città e nelle librerie o edicole della parte alta della provincia quindi Cadora in Pezzano e soprattutto Comelico allora mentre ne parliamo io mostro altre fotografie le lasciamo scorrere insomma che mi hai portato e sarebbero bellissime da commentare tutte quante ma poi il tempo stringe si riferiscono appunto a cent'anni fa per essere alla raccolta dei morti sparsi sulle montagne ecco questa prima esumazione che portò appunto ai primi cimiteri di Fondovalle insomma di cui si diceva prima ecco io so che ti sta a cuore una puntualizzazione cerchiamo di farla anche così come dato oggettivo quella cresta di confine che ci separa dall'Austria noi un giorno ho fatto il conto non è uno scherzo noi provincia di Belluno abbiamo quasi 30 chilometri di confine che è un confine di montagna perché è un confine di sole di sole creste ma noi confiniamo con quest'Austria che è Europa come noi che ci costringe questo confine è un confronto diretto e positivo oggi perché su quelle montagne si fanno anche lo stesso pellegrinaggio di Lugau è un'occasione di dialogo o su Monte Cavallino la celebrazione insomma ecco per fortuna tutto il contesto è cambiato però tu mostrando la forcella mostrandomi la forcella adesso ci torniamo con la fotografia alla tua copertina e cerchiamo anche di ingrandire la fotografia eccola qui questa forcella che vediamo qui al centro ecco tu guardando questa forcella immagini che qui possa starci un uomo che viene dall'altra parte del mondo potrebbe essere un giapponese dicevamo prima e gli mostri dietro questa forcella c'è l'Austria e che cosa vede allora io portando la sua un osservatore neutrale cioè uno che non sapesse niente della prima guerra mondiale se non la grandi linee e che fosse giapponese americano francese tedesco ischimese americano forse anche italiano ma italiano che non sa e sarendo noi io e lui dal comelico fin lassù a quota 2717 e lassù io gli mostrassi il mondo di là e gli dicessi tu cosa vedi di là al di là della forcella e questo munito da binocolo che gli fornisco io dicesse beh vedo una realtà felice curata luminosa vedo seggiovie vedo impianti vedo gerani vedo tanta tanta vita tanta felicità case aperte alberghi perfetto adesso girati caro visitatore e guarda da dove sei venuto guarda l'italia da dove siamo venuti da dove siamo partiti cosa vedi e questo si girasse da dove è salito e vedo il comelico ma come lo vedi adesso il comelico è completamente diverso dalla visione di là vedo case chiuse pratiche vengono mangiati dal bosco vedo famiglie che se ne vanno vedo un contesto che si impoverisce bene a questo punto ti faccio caro visitatore la domanda della giornata secondo te chi vinse la prima gara mondiale visto che questo è il confine tra l'italia e l'austria e questo di giù una geografia direbbe sicuramente ma hanno vinto quelli di là no hanno vinto questi di qua ma come si si la riflessione è amara ma ci sta perché appunto se ripartiamo dal dato iniziale su queste montagne sono morti tantissimi dei nostri soldati per vincere una guerra che ci avrebbe visti oppressi da quello che quella volta era il nemico che era l'austria è andata come è andata con tutti questi caduti e forse su queste montagne su questo versante vittorioso se posso riassumere il tuo pensiero e interpretarlo su questo versante vittorioso non abbiamo saputo coltivare lo stato la regione l'Italia l'autorità l'Italia non ha saputo coltivare questi semi di una vittoria che poteva significare anche prosperità mentre dall'altra parte lo stesso tipo di montagne sono prospere quindi questo ci chiama a una responsabilità ci chiama a riflettere anche su come in cent'anni è stata governata la montagna di qua e la montagna di là con risultati molto diversi e con un cadore e un comelico in particolare che soffrono come non meriterebbero di soffrire e che fecero l'Italia e che fecero l'Italia il cadore il comelico il comelico fa parte del cadore nel 1248 già all'ottavo per un'idea d'Italia di là da venire quindi sarebbero i figli primogeniti dell'Italia il cadore più affortunato Calvi invece sono i figli bistrattati dimenticati di un'Italia che guarda altrove si si con una montagna che a nord è più prospera se guardi a ovest l'alto adige è molto più prospera in Friuli non se ne passa così male anche se probabilmente hanno perso il treno anche loro per cercare di salvare la loro montagna e la carnia soffre molto anche quella va bene allora Guglielmo grazie per questa tua partecipazione aspetta un attimo che facciamo vedere la copertina vera perché abbiamo mostrato solo le fotografie si tratta di un libro sostanzioso grosso importante che così insomma è inutile non si può pretendere che però da qui già capite da questa sfogliata che faccio davanti alla telecamera insomma che si tratta di un libro ricchissimo di dati ricchissimo di fotografie e quindi bravo per tutta questa ricerca speriamo anche che tu possa avere la soddisfazione di vederlo acquistato ecco e con questo e allora permettemi salutiamo anche gli alpini visto che è il loro centenario soprattutto quelli cadorini che ti hanno dato l'Ana del Cador che ti hanno dato fiducia sostegno e ecco e vorrei far vedere anche in anteprima assoluta il libro che uscirà perché tu hai pubblicato nell'ultima pagina già la copertina speranzosa del terzo e ultimo tassello di questa trilogia che tu ti sei impegnato a realizzare alla ricerca appunto dei nomi e delle storie dei tantissimi che sono morti sulle nostre montagne grazie grazie a tutti